La promessa anticipazioni. Immagina un'antica tenuta, circondata da misteri e segreti che si celano dietro ogni porta. La promessa non è solo una dimora, ma un luogo dove le ambizioni si scontrano, e ogni gesto può alterare il destino di una famiglia intera. I festeggiamenti per la baronia di Curro dovrebbero essere un momento di gioia, ma non tutti condividono l'entusiasmo. Lorenzo e Cruz, in particolare, nascondono pensieri che potrebbero stravolgere l'equilibrio precario della famiglia. Ma cosa li turba davvero? Mentre Mauro annuncia a Romulo, Manuel, Feliciano e Martina che lascerà la promessa per una nuova offerta come maggiordomo presso i Muniz, un'ombra di preoccupazione si allunga sulla tenuta. Il suo addio segna l'inizio di una serie di eventi che nessuno avrebbe potuto prevedere. Salvador e Maria, intanto, sorprendono tutti annunciando a Lope la loro decisione di fidanzarsi di nuovo. Ma mentre la felicità sembra riaffacciarsi, Margarita svela a Cruz un inquietante segreto. Alonso ha messo lo zampino dietro la cessione del titolo di Manuel. Quali saranno le conseguenze di questa scoperta? E quanto sono disposti a rischiare per proteggere i loro interessi? Nel frattempo, Abel confessa a Iana di aver visto lei e Manuel baciarsi nell'hangar, rivelando di conoscere il loro amore segreto. Questa verità, che avrebbe dovuto restare nascosta, potrebbe distruggere tutto. E mentre la marchesa, dopo infinite discussioni, accetta che Curro diventi il nuovo barone dell'inaggia, una domanda sorge spontanea. Cosa avrà fatto cambiare idea a una donna tanto determinata? C'è qualcosa di oscuro che non conosciamo? Tra intrighi e alleanze nascoste, Catalina riesce a ottenere il permesso del padre per partire con Pelaio, ma con una condizione. Margherita dovrà accompagnarli. Tuttavia, il conte non ha realmente intenzione di lasciare la tenuta, consapevole che farlo metterebbe a rischio i suoi affari con Geromino, specialmente ora che la guerra è imminente e il signor Cavendish ha un nuovo ordine di armi. Che cosa accadrà se questi affari dovessero venire alla luce? Mentre Lorenzo chiede aiuto a Martina per ottenere informazioni su Curro, la giovane si rifiuta, rivelando che ci sono cose che nemmeno lei è disposta a condividere. Nel frattempo, la più giovane della famiglia, Leonor, annuncia il suo ritorno da Parigi, portando con sé un'aria di cambiamento che nessuno aveva previsto. Mauro, ormai deciso a partire, si congeda da tutti con grande commozione, lasciando soprattutto Teresa con il cuore spezzato. Ma la promessa non è un luogo dove si possono dimenticare facilmente le persone. La scomparsa di Maria getta la servitù nell'angoscia. E nonostante i marchesi si rifiutino di coinvolgere la guardia civile, la servitù decide di organizzare delle squadre di ricerca all'insaputa dei padroni, con la complicità di Don Romulo e Donna Pia. Cosa scopriranno durante queste ricerche? Quali segreti si celano dietro questa sparizione? Le domande non fanno che aumentare. Cruz chiede a Pia se Feliciano sia davvero figlio di Petra, ma la risposta che ottiene potrebbe essere una bugia. Petra stessa, sorpresa da questo sospetto, si interroga su cosa stia realmente accadendo intorno a lei. Nel frattempo, Catalina, desiderosa di espandere gli affari, propone di creare nuovi prodotti da affiancare alle marmellate. Ma le intenzioni del conte sembrano nascondere ben altro. Un piano per mascherare il denaro proveniente dai traffici illeciti. Fino a che punto si spingerà per proteggere i suoi segreti? Romulo, dopo la partenza di Mauro, riorganizza i compiti dei camerieri e valletti. Ma Salvador, nominato primo valletto, si mostra incerto, troppo preoccupato per la scomparsa di Maria. E mentre Manuel informa Curro che presto potranno formalizzare l'accessione del titolo di barone, Margarita rivela a Lorenzo i suoi sospetti su Pelaio e Geronimo, insinuando che il conte stia nascondendo qualcosa di molto più grande di quanto sembri. Cosa faranno con queste informazioni? Abel, da parte sua, riferisce ai marchesi che ha trovato Ximena in uno stato molto debilitato e suggerisce a Manuel di andarla a trovare. Dopo un duro scontro, Alonso riesce a convincere il figlio, ma cosa accadrà quando Manuel si troverà faccia a faccia con sua moglie? E come reagirà Cruz quando scoprirà che le ricerche di Maria sono ancora in corso, minacciando di mandare tutto all'aria? Leonor, di ritorno alla promessa, viene accolta calorosamente, ma c'è un'ombra che aleggia sulla tenuta. Pia, decisa a mantenere l'ordine, intima a tutta la servitù di non fare più commenti sul fatto che Petra è la madre di Feliciano, lasciando tutti perplessi e sospettosi. Mentre Salvador, alle prese con i suoi nuovi compiti, combina una serie di guai, Manuel prende una decisione difficile. Andare a trovare Ximena, pur sapendo che potrebbe non servire a molto. Ma perché decide di farlo davvero? Cosa si nasconde dietro questo gesto? Alonso, nel frattempo, si lamenta con Romulo del comportamento di Salvador, sempre più incapace di concentrarsi sul lavoro a causa della scomparsa di Maria. La tensione cresce, e Teresa informa Leonor della preoccupante situazione. Catalina, determinata a non farsi scoraggiare, vuole creare nuove salse da affiancare alle marmellate, ma dietro ogni proposta c'è un secondo fine. Anche Iana, profondamente preoccupata per Maria, inizia a sospettare che ci sia molto più in gioco di quanto appare. Curro, intanto, annuncia a Iana che è disposto a rinunciare al titolo di conte dell'amata, una decisione che potrebbe cambiare tutto. Simona, sospettosa dopo aver scoperto che Valentin non ha spedito una sua lettera, inizia a indagare, parlando della gamba di Antonio e dell'incidente che ha subito. Ma le risposte di Valentin non la convincono, facendo crescere i suoi sospetti. Infine Funes informa Iana, Romulo e Pia che non ci sono ancora novità su Maria, ma rivela un dettaglio sconvolgente. Un'altra domestica, anch'essa scomparsa, è stata trovata uccisa. Ora tutto sembra precipitare. Quali segreti verranno alla luce? Chi sarà il prossimo a cedere sotto il peso delle bugie? E soprattutto, chi uscirà vincitore da questo intreccio di inganni e passioni? Restate con noi, perché il mistero è appena iniziato, e ciò che accadrà alla promessa potrebbe cambiare tutto. Non perdetevi il seguito, perché le sorprese non sono ancora finite.